Dà la possibilità a ragazzi appassionati di politica, di attualità, di incontrarsi, confrontarsi. Questo è molto stimolante, mette alla prova e sicuramente permette di sviluppare le proprie capacità di public speaking, ma anche relazionali e di team working. Non vedo l'ora di avere la possibilità di ripetere nuovamente l'esperienza, perché nella somma ho avuto l'opportunità di conoscere persone con cui in futuro avrò sicuramente piacere di continuare a lavorare o comunque tenerci in contatto per sviluppare nuove idee.